Bellissimo pubblico di Duelinks, nel video di oggi come ogni reset di stagione ragazzi voglio andare a giocare un deck molto fun ma che ci porta tranquillamente al leggendario Magari non subito ma comunque con qualche partitella ma devo dire la verità non ci toglie assolutamente il divertimento Che presenta comunque a mio parere un Xyz un po' controverso per comunque le meccaniche di Duelinks Andremo a vederlo subito ma prima di iniziare come sempre vi chiedo un like sulla fiducia e simpatia Mentre se ancora non l'avete fatto ma non credo proprio ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale per aiutarci a crescere e a supportarci gratis Stiamo parlando del Bariano Deck, l'ho voluto soprannominare così perché comunque trovo molto divertente l'assonanza del deck di Berry ragazzi Allora quindi noi andiamo a giocare tranquillamente l'Xyz veramente controverso che ho trovato è il mano gigante rossa Molto divertente perché comunque nega la prima carta che viene giocata in qualunque turno Quindi il problema è che se voi giocate una vostra carta automaticamente viene negata la vostra carta Quindi stacca ad un pezzo e viene negata Ma non solo nega anche tutte le altre carte presenti sul campo sia quelle vostre che quelle dell'avversario Quindi secondo me un Xyz così è sì simpatico ma non è comunque molto utile perché non avrebbe molto senso che voi non potete fare ulteriori giocate A questo ho inserito il Pugile Indomito come Tecestus, Pugile e comunque Xyz devo dire la verità non male, veramente forte Comunque per poterlo riuscire a giocare dobbiamo avere un campo libero Il che è tutto comunque abbinato al mazzo pesci perché a mio parere è l'unico deck che ci permette di fare veramente vari Xyz Ma noi ragazzi non ci dilunchiamo troppo e andiamo a vedere subito il replay Andiamo a vedere questo deck fan in azione e che ci ha portato al leggendario E iniziamo la nostra prima partita contro Yuya Sakaki Ragazzi abbiamo cominciato a giocarlo dal Re dei Giochi Se vincendo alle 5 addirittura ragazzi Non so da dove provenga comunque non è questo eh È il vecchio deck con la quale ha fatto Re dei Giochi Quindi è una vecchia serie di vittorie Ok deck giusto serie normale Ok va bene Goffo Drago, Drago Puzza Pendron Furioso, attiva l'abilità, rivela 2, mette carte dentro Goffo Drago riprende il Drago Battito Evocazione Pendulum Ok ci siamo, ci siamo Il ragazzo si ferma qui Penso che il ragazzo Vado ulteriormente a pescare carte La distrugge Ah distrugge preferisce il Goffo Drago Toglierselo bene Mette la mano Giocata giustissima Ci sta il Maga Nobel Drago Ok Scalafaggio Blancacciaio Questo è molto Ok diciamo che il ragazzo non ha saputo bene Cosa stesse affrontando Quindi ha messo un po' di Xyz Così a caso che non capisco perché il 1.9 me lo mette comunque in difesa Comunque andiamo avanti noi ragazzi Scala Motosega Il ragazzo Nega Eccola qui Andiamo a mettere Andiamo a bandiglio comunque un ulteriore carta pendulo Ma attacchiamo il 1.9 L'unico che posso attaccare ovviamente Che conviene attaccare La verseria reattiva Va bene Dispositivo Vi facciamo tutti prendere in mano Riendiamo con la nostra combo ragazzi Che noi non ci fermiamo qui E andiamo Pugile Indomino ragazzi Prima combo Eccola qui Il nostro Pugile Indomino Star Cestus Devo dire la verità Questo è un Xyz molto bellino Ma difficile comunque da mettere Tre pezzi Non è una cosa semplice da buttare giù comunque E L'andiamo a trasformare comunque in alzaranco bariano Che dura una sola volta per turno E che è un po' un peccato Devo dire la verità L'ordine del caos È molto meglio Quello perché possiamo giocare la carta varie volte Qui è una sola volta per duello Quindi Attenzione alla giocata Ci godiamo la mega Evocazione Xyz Ragazzi Attacchiamo Fondiamo in questa maniera L'avversario rievoca Pendulum Rimette lui Sacrifica Goffo Drago Si prende il Drago Pendulum Non può fare nulla Stacco un pezzo Gli faccio 1050 di danni Più 2008 Faccia Comunque che non è male Devo dire che è un Xyz abbastanza buono Questo Il mago Ok va bene L'avversario Ricontinua Rievocazione Pendulum Di blocco Di nuovo Poi qui L'avversario ovviamente Va a schiantarsi Sul mio mostro E siamo contro Blue Angel Sembra A grado ragazzi Red dei giochi Siamo vincendo attuale 2 Devo dire Ok Qualcosina l'ha fatta funzionare Allora Dime ragazzo Cosa combina Il suo turno Quindi facciamo fare Quello che vuole Truccastella Quelle cremisi Ok 3 carte coperte Fine di tutto Iniziamo Bandiamo una carta Ragazzi Inventiamo Principessa Belladonna Squalo Lanterna Squalo Motosega Evochiamo qui Il pesce palla Mano gigante Questa volta Sono voluto andare Di mano gigante Ragazzi Adesso andiamo a vedere La carta Che comunque non è male Un po' controversa Però L'avversario non fa nulla Quindi ci fa evocare Tranquillamente La mano Andiamo ad attaccare 1 Finita In questa maniera Lui bandisce Una carta E fine Il pesce elettro Castella Viene automaticamente Negato Automaticamente Abbiamo gli effetti Negati anche Degli altri mostri Ma potete notare Anche lo squalo Ok Qui non si vede Ma appena si vedeva In duello Tranquillamente E' praticamente Negato C'ha un cerchietto Qui Allora Noi andiamo A attivare Faccio direttamente Un x is Non attivo effetti Perché altrimenti E' un problema L'avversario Attiva la cicuda 2000 Sul campo Noi continuiamo Ad attaccare Diretto E comunque Alla fine Ci siamo portati Abbastanza tranquillamente La partita A casa E siamo di nuovo Contro gli Asakaki Ragazzi Con i reset Di stagione Ricontinuo Questo deck Comunque Molto divertente Ripeto E' solo un deck Di puro divertimento Allora Allora Iniziamo Scuola Motosega Di nuovo Classica combo 1-2 Questa volta Faccio un x is Diverso Mano gigante Quindi lui Me lo tengo libero Sul campo Non attivo niente Perché l'abilità E' dal turno 2 In poi Quindi è turno 1 Stiamo qui A guardarci L'inversario Non attacca Rimane lì Noi andiamo tranquillamente A sto punto Attiviamo l'effetto Alza ranco Bariano Andiamo La mettere Abbiamo la mano rossa 2006 Lui attiva il mago nero Ma viene automaticamente Negato Automaticamente abbiamo negato Anche il mio mostro Ragazzi Ora lo attivo E vi faccio vedere Infatti Appunto Che non abbiamo più Possibilità di attivare i mostri Quindi dobbiamo andare ulteriormente A giocare carte Andiamo qui Utopia finale Attacchiamo Il nostro mostro Ecco qui Ovviamente si attivano gli effetti Perché ovviamente Abbiamo già attivato L'effetto qui della manina E l'avversario Poi infine Si arrende E siamo contro Yami Yuji Sembra grado Platino ragazzi Iniziamo noi O inizialur Non mi ricordo Che cavolo iniziasse Sinceramente parlando Ok Iniziamo noi tranquillamente Quindi andiamo giù Di bella tonna Mettiamo scuola 1 Ovviamente Andiamo a mettere qui Pesce Pallocchio Andiamo evocare Mano gigante 2.000 Tutto stomato Non è malaccio Difeso da 3 carte Ragazzi Non è Buona cosa Di verità Ok Endymion Andiamo a distruggere subito La carta Che abbiamo potuto equipaggiare Anime luce oscurità Ecco qui 1.000 1.000 1.000 2.000 Le anticoni Catture Le andiamo a rubare Cosa divertente ragazzi C'è da guardare qui Quello che succede Quando attiviamo La mano Allora Trasformazione Beriena Di Beri Alzo Alzo rango magico Deve essere L'attiva Viene negato Ragazzi Guardate cosa succede Alla carta trappola Mi ha messa qui Viene negata Ovviamente E l'avversario Si riprende il mostro In questo caso Possiamo continuare Avendo già negato Una carta Quindi numero 39 Utopia Andiamo a mettere Utopia Il fulmine Attiviamo l'effetto 5.000 Di danni Attacchiamo E qui chiudiamo La partita Questo è uno di quei motivi Perché nel deck Io poi Ho cambiato Le carte Allora ragazzi In questo video Abbiamo visto Il pugile Indomito E la mano Rossa gigante Devo dire la verità Il pugile Difficile da mettere Però Devo dire la verità Che comunque Unixis Che si rivela Comunque forte La mano È una carta Molto Unixis Molto controverso La negazione Di qualunque Carta Che venga giocata E inoltre La negazione Di qualunque Carta Sul deck Rende questo Unixis E comunque Che a mio parere Possiamo anche Metterlo Da parte Nel frattempo Ragazzi Sono curioso Di sapere Cosa ne pensate Voi Di questi due Xis Quindi lasciate Tranquillamente Nei commenti Noi rispondiamo Tranquillamente A tutto Detto questo Io vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo video Ciao